Dobbiamo capire che non esistono azioni ed emozioni senza pensiero, allora quindi pensiero, azione, emozione, pensiero, azione, emozione, immagini si tengono insieme, a volte emerge un pensiero, a volte semplicemente c'è un'azione, a volte c'è un'emozione, a volte c'è un'immagine, ogni volta che ce n'è una ci sono tutte e quando c'è un pensiero le possibilità sono due, che ci sia un pensiero animico ma di quello di solito non vogliamo occuparci perché ci fa star bene, quindi ho un pensiero egoico e nel pensiero egoico state certi che c'è sempre un giudizio, ecco questo dovrebbe fotografarla, questa immagine, portarsela nel portafoglio, appiccicarsela sul comodino, mettersela in bagno vicino alla cartigenica, oppure far fare una cartigenica con quel tipo di cosa, perché in quanto è, facciamo una pubblicità interiore, le immagini come questa sono potenti perché sono immagini strutturali, cioè non ci danno un, non sono dei disegni che copiano la realtà, sono disegni che copiano la struttura delle realtà, cioè che è comune infinite realtà, nessuno, ci sono mille cose, fate un esempio, quando foste terapeuti della famiglia vedreste che ogni famiglia ha i suoi problemi, sono sempre diversi, c'è quello che ha il problema col gatto, che ha la clopecia, ogni altro ha il problema col figlio, l'altro ha col figlio che si droga, l'altro ha col figlio che non si droga, è un problema anche quello, perché invece magari vuol fare filosofia, figlio noi eravamo preparati per un figlio che si drogava, ma di fronte alle richieste di filosofia noi non sappiamo proprio come rispondere, ogni famiglia però, se vuoi fare il terapeutico della famiglia sarà bene che di questi contenuti ti entrano di qua e ti escono di là e mentre li senti cogli qual è la struttura sottostante, e le strutture sono pochissime e sono sempre quelle, per cui poi diverso è il modo in cui le persone li incarnano, ma se non si va a cogliere la struttura profonda della realtà, le nostre azioni sono una ripetizione all'infinito delle stesse cose, quindi qui venite per fare matematica, non per fare i romanzieri, ecco uno può ascoltare una famiglia, poi ci scrive il romanzo, ma qua la famiglia fa una richiesta, è sempre quella, di stare meglio, e stare meglio bisogna che cogliamo la struttura e vedere quali aspetti della struttura sono tossici, quali sono velenosi, quali queste strutture creano un loop, cioè una continuazione sempre ripetuta nello stesso modo.